ciao a tutti amici amici benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video allora sono appena tornata da alcuni giretti che ho fatto stamattina e sono stata come avrete letto dal titolo da lidl e alla saponeria volevo andare da lidl perché la lucia ciao cara se mi stai ascoltando mi aveva segnalato alcune offerte interessanti tra cui le yankee candle a 11 99 per cui io lo segnalo a voi lo dico a voi io non le ho trovate però però sono andata un po in ritardo rispetto al volantino perché sapete che adesso è un periodo molto full per me non ho tempo assolutamente di girare i supermercati quando escono le offerte quindi quelle non le ho trovate poi c'era qualcos'altro in offerta ho fatto una piccola spesa integrativa perché in realtà la spesa io l'avevo fatta all'ipercop questa settimana perché dovevo comprare del materiale scolastico per carim per cui visto che mi trovavo lì adesso non ho tanto tempo di girare avevo fatto la spesa all'ipercop per quanto riguarda carne pesce verdure frutta eccetera quindi oggi ho fatto una piccola spesa integrativa la lidl ho trovato ho preso qualcosina di integrativo che secondo me magari conserva ancora dei prezzi accettabili perché come sappiamo lidl come tutti i supermercati ha aumentato moltissimo i prezzi però secondo me il divario tra un supermercato normale e la lidl su molti prodotti si è molto assottigliato questo gap si è molto assottigliato su alcune cose rimane ancora più conveniente il discount però su molte no per cui una persona che non ha tanto tempo come me alla fine in questo momento preferisce andare a fare la spesa al supermercato l'ho già detto più di una volta per me è il conad in questo momento il miglior rapporto qualità prezzo per quanto riguarda i supermercati però chiaramente dipende tutto da quello che si compra io ragiono in base a quello che compro io guardo i prezzi in base a quello che compro io comunque magari man mano che vi faccio vedere la spesa vi faccio degli esempi pratici a riprova di quello che sto dicendo ecco ok questo è il discorso lidl dopodiché sono stata la saponeria perché ragazzi vi ho detto che è un periodo di low buy per quanto riguarda i detersivi le cose per la casa compro solo quando mi serve però purtroppo a volte capita che mi serve erano c'erano due cose che mi servivano quindi poi dopo quando sei sei lì compri anche qualcosa qualcosa altro e mi si è attaccato alle mani del makeup tra cui una novità della l'oreal non vi ho fatto questi nuovi rossetti liquidi io ve li fa adesso alla fine vi faccio vedere non ho fatto la foto mi sono dimenticata se trovo qualcosa su internet ve la metto comunque sono dei nuovi rossetti matt di liquidi che la commessa mi ha detto essere usciti da una settimana i colori erano molto belli ho fatto anche gli swatch però poi mi sono dimenticata di fotografare eccetera perché veramente in questo periodo non ho la testa e nulla quindi insomma io ve lo segnalo che sono usciti questi nuovi rossetti matt di l'oreal liquidi nel caso non non lo sapesse non lo sapeste e vi faccio vedere quello che ho preso io la colorazione che ho preso io al termine del video ok comincio con la spesa alla lidl così non mi parlo in chiacchiere allora ho trovato i miei crackers preferiti della linea semplicissimi doria a scontatti a circa un euro e 69 questi al supermercato sono arrivati a circa due euro in realtà questa non è la mia versione preferita la mia versione preferita è quella con la banda verde però vabbè erano in offerta le ho voluti prendere questa è la versione 100 per 100 farina integrale con zucchero rosmarino e semi di miglio bianco io non non sono mai stato un amante dei crackers ma da quando consumo questi devo dire che li mangio come spezza fame a metà mattina a metà pomeriggio molto volentieri poi che cosa ho preso ho preso delle patate ho preso queste qui che costano un pochettino di più ma sono biologiche poi hanno diciamo la giusta quantità che serve a me perché se poi mi riempio di patate mi si incacchiscono e un chilo di queste biologiche vengono 1,99 e quindi ho preso questo poi ho preso degli avocado anche questi sono aumentati però questi sono molto duri per cui mi durano si conservano abbastanza bene e mi durano abbastanza bene questi era un po che non li prendevo lì però in genere li ho sempre presi alla lidl e gli avocado questi costavano 2 euro e 99 sono aumentati l'ho detto però vabbè ragazzi ci sta è aumentato tutto poi mi sono preso un mango questo pure me l'aveva segnalato la lucia a 0,99 questo è molto indietro piace a cari ma mio figlio chiaramente non è il mango che abbiamo mangiato in africa però non siamo in africa e noi come dire ci accontentiamo poi ho preso qualche affettato ragazze perché alla copp visto che ieri appunto sono stata a fare la spesa alla copp a copp gli affettati sono veramente cari un bel po per cui ho preferito non ho preso granché ieri di affettato e appunto li ho presi oggi ho preso questo speck affumicato dal salumiere anche perché noi io non mangio noi non mangiamo affettati così alla fine gli affettati neanche cari ma ma tantissimo gli affettati per cui è inutile che io vado al banco a comprare degli affettati che costano sono più buoni ovviamente che costano molto di più li uso più che altro io ogni tanto per farcire imbottire panini o piadine queste cose qui ho anche lui per mangiare i piedi insomma per imbottire panini ecco non non da mangiare così e nulla quindi dicevo lo speck affumicato dal salumiere stava 1 euro e 29 quindi era un buon prezzo e anche questa mortadella era in offerta 1 euro e 29 qualcosa no scusate no di più 1 euro 80 circa e questa gliel'ho presa a lui perché gliela metto nelle tigelle perché quando eravamo al mare quest'estate mangiava le tigelle con la mortadella per cui anche a merenda così per variare per non mangiare i soliti gelati dolci eccetera e poi c'era il prosciutto di parma sempre della loro linea dal salumiere questo sta 2 euro e 69 come affettati per esempio trovo un buonissimo rapporto qualità prezzo il conad per questo anni dico il conad invece a selunga e cop affettati veramente molto cari poi come carne c'erano delle cose in offerta ma io avevo già comprato delle svizzere degli hamburger ieri all'ipercop per cui ho preso solamente queste polpette di suino queste stavano a circa 2 euro e 50 quindi queste qui avevano un buon prezzo e ho deciso appunto di prenderle dopodiché c'erano i filetti di tonno della rio mare in offerta a 2 99 anche qui ragazze questa non è una grande offerta di lidl pensate che io la scorsa settimana sono andata o forse di una decina di giorni fa non mi ricordo sono andata all'asse lunga comprato i filetti di mare della consorzio consorcio scusate che costano una barca di soldi più o meno la quantità era questa come vasetto costavano 50 centesimi in più di questo per cui boh vabbè non era una grande offerta però lo mangiamo il tonno quando non ho pesce per lui questi li mangia ecco quindi devo prendere più che altro quello che mi mangia lui altrimenti mi rimane tutto in dispensa perché l'ho già detta questa cosa è un ragazzino che il 3 ottobre compirà 11 anni quindi tra pochissimo e sta diventando un pochettino rompi io cerco di non viziarlo però vabbè insomma per il cibo cerco di accontentarlo finché posso poi ho preso le erbe le erbette campagnole queste qui sono me le ho sempre comprate questa è la lidl queste stanno a 1 euro e 19 e mi piacciono sempre tanto queste poi c'era in offerta la mutti questa salsa pronta di datterini gusto pronto no scusate gusto dolce sono 400 grammi ed era in offerta a 1 euro e 49 poi prima vi faccio vedere il cibo poi c'è anche qualcosina per la casa poi ho preso questi passatelli cacio e pepe che stavano nel reparto diciamo forse edizione limitata perché i passatelli al parmigiano reggiano normali della linea italiamo costano 2,99 mentre questi stavano in offerta 2,29 e sono curiosa di provarli perché adesso con il freschino magari mi viene a me viene voglia di farmi un brodino lui non li mangia questi lui mangia tortellini e poi di verdura ho preso il cetriolo olandese questo costa 89 centesimi questo me lo tengo in casa nel cap in casa nel caso in cui non abbia insalata risolvo con quello poi gli ho preso due pacchettini di patatine queste qui stick perché vuole quelle della san carlo che costano un sacco di soldi questo ecco questo già è un buon rapporto da queste costano di meno alla lidl per cui glielo prese lì sono queste tipo patatine tipo fiammifero queste sono la versione col sale normalissima della loro linea snack day e queste qui sono la versione paprika paprika si patatine a fiammifero della loro linea snack day queste stavano 0 99 poi ragazzi c'era in offerta il bitter della san pellegrino 0 59 centesimi mi pare poi vi segnalo che c'erano le barrette della peso forma in offerta non c'era una grande scelta come gusti ho preso quello che mi piace di più queste sono le barrette che io mi porto al lavoro nei giorni in cui faccio l'attività fisica e ne mangio due praticamente prima di di andare in palestra un'oretta prima la nutrizionista la mia ex dietista mi disse appunto che quando dovevo fare attività fisica mi potevo mangiare o due barrette o farmi un toast io uso barrette diciamo più per una questione pratica anche se sto pensando sto cercando di ridurre molto questi alimenti proteici ragazze perché a lungo andare vi dico la verità mi hanno costipata un bel po e penso che sia colpa di questi perché adesso io sto cercando di limitarli questo genere di alimenti e devo dire che da quel punto di vista è tutto molto migliorato comunque c'era la versione cioccolato fondente cioccolato e caramelle caramello cioccolato al latte e io ho preso questa cioccolato e caramella caramello e erano in offerta 6 e 69 normalmente stanno sui un po meno di 6 di 8 euro all s lunga anche all'ipercopio più o meno il prezzo è quello poi c'era in offerta questa queste questi yogurt dessert ai protein della milbona questi non li avevo mai visti perché vabbè vi ho detto non è li sto limitando questi diciamo questo genere di alimenti però non è che li elimino del tutto anche perché poi magari non vorrei diciamo sì ok elimino i prodotti proteici e poi ingrasso ecco quindi non vorrei ringrassare vorrei però cercare di mantenere il peso limitando questo tipo di alimenti però vabbè questo li ho voluti prendere però ne ho presi solo due ho preso la versione alla banana c'era anche la versione alla fragola e al mertilo quindi a chi interessa non mi ricordo il costo comunque sui 2 euro e 50 se non mi ricordo male aspettate che qui ho lo scontrino dove ho speso 52 euro e 32 non so se potete vedere allora vediamo quanto li ho pagati aspettate che ci guardiamo ve lo dico mamma mia ragazze la vista gelato lubrifiche mamma mia ragazze la versione alla versione alla versione alla versione alla versione alla versione e poi quando cerchi le cose non c'è verso non c'è verso 258 ragazzo non lo trovo comunque penso 2 euro e 50 ci metto troppo tempo poi ve li ho fatti vedere questi gelatini che avevo comprato le erbette ve le ho fatte vedere sono completamente rintronata scusatemi allora questi gelatelli questi ice pops si chiamano ho preso sia la versione lemon lime ginger e sia la versione apple kiwi and cucumber devo dire che questo genere di gelati tipo sorbetti piacciono molto mio figlio infatti sono dei sorbetti mela kiwi e cetriolo e questi altri invece sono al al limone lime e zenzero questi 2 99 ecco per esempio su queste cose trovo che l'idl è caro cioè nel senso che però devo dire che i gelati comunque sono buoni cioè al supermercato non è che costano un po' è così di più tanto questo genere di prodotti scusate che li metto lì poi basta spesa alimentare ho finito perché come vi dicevo avevo acquistato alla ieri all'ipercop avevo fatto la spesa poi ho preso per carimo ho preso il gel alla lidl stava in offerta 0 99 attualmente stiamo utilizzando la versione blu ci si trova bene ho voluto prenderli anche questa rossa così quando gli finisce la blu gli faccio usare questa rossa poi c'era in offerta lo spray lubrificante questo l'olio lo spray quando lo vedo lo contro perché lo uso per tantissimi scopi 1 euro e 59 no scusate 1 euro e 49 poi c'era in offerta il ricambio del mop quello universale e pulizia profonda multifunzione della v5 questo l'ho pagato 2 euro e 19 e poi c'erano le mollette per per stendere il bucato queste mi piacciono devo dire questo della lidl con questa forma così queste stavano a 2 euro e 50 ho fatto scorta ragazze perché praticamente mi si è rotto anche il come si chiama il porta mollette infatti sono dovuta poi andare alla saponeria a comprare anche il porta mollette perché mi si è rotto completamente ok quindi busta della lidl è finita passiamo alla saponeria allora la saponeria appunto preso il porta mollette con ci sono anche delle mollette all'interno ma io più che altro l'ho preso per il porta mollette questo costava 3 euro non tantissimo per fortuna poi ho dovuto riprendere la paletta ragazze perché mi si era rotta io non sono una che compra in continuazione cose per la casa di questo tipo però ecco mi si era rotta l'ho dovuta acquistare e non mi piace tanto perché è molto grande però ragazze costa era in offerta a 2 euro e 50 non ho voglia di spendere gran soldi per queste cose per cui l'ho presa poi due bileda actifibre questi qui costano molto alla saponeria però mi servivano e li ho presi perché purtroppo mi sono scordata di prenderli ieri all'ipercop e all'ipercop costano molto meno cioè ragazzi guardate questi panni della bileda actifibre all'ipercop costano 2 euro e 35 anche all s lunga al cona della saponeria sono arrivati a 4 euro e 50 e devo dire una cosa che la saponeria bisogna stare attenti perché è diventata molto cara per certe cose comunque alla saponeria ho speso avevo comunque voglia di farmi un giro perché sapete che c'è anche beauty e make up per cui sono andata lì 41 e 51 euro e 51 alla saponeria 90 euro di spesa ieri all'ipercop cioè in questo weekend per la casa sono andati via 200 euro insomma poi invece questa era in offerta il bileda microfibre universal eccezionale potere pulente anche su superfici delicate questo sta a un euro e stava un euro e 70 circa in offerta poi c'erano in offerta gli ammorbidenti della vernell in tutte le versioni c'era vaniglia c'era fiori di lotto anche quello mi ispirava parecchio però ho deciso di prendere la versione alla rosa io non compro tantissimo ammorbidenti adesso anche perché sono arrivati a dei prezzi veramente esorbitanti e cerco di metterne veramente molto poco perché appunto cerco di risparmiare così nel senso che magari prima ne mettevo di più adesso ne metto meno anche perché vabbè non è che io non sono tanto fissata su queste cose per cui mi va bene così poi mi serviva lo smacchiatore anche qui c'è non c'è uno consigliatemi uno smacchiatore che non siano anche di sottomarca che si può trovare al discount valido per appunto smacchiare i capi sporchi dei bambini quando tornano da scuola eccetera ho preso comunque questo lomino bianco liquido c'era anche la versione in polvere che forse dura un pochettino di più però a me piacciono di più le versioni liquide ogni tanto compro anche quello in polvere ma mi piacciono di più le versioni liquide questo stava in offerta 3 euro e 49 alla faccia dell'offerta questo una volta si trovava a 2 euro poi mi sono presa due detersivi per per i pavimenti perché anche questi sono arrivati a dei prezzi esagerati quindi quando li trovo a circa un euro faccio cerco di comprarne un po ho preso questi due della rio melaceto ho preso la versione all'aceto di mele biologico quindi sgrassa a fondo elimina tutti i cattivi odori tra l'altro questo si può usare anche come sgrassatore mettendolo dentro uno spruzzino e poi ho preso la versione al talco c'era anche muschio bianco e lavanda però spesso la lavanda detersiva la lavanda hanno un odore molto chimico che non mi piace a me non piace l'odore di lavanda chimico in realtà mi piace la lavanda ma quella proprio naturale poi ho ripreso questo che era in offerta questo lo uso regolarmente è uno dei miei detersivi mai più senza diciamo per la casa questo doccia vetri dell'acquasar ci pulisco praticamente il vetro della doccia perché ha il vantaggio che non si sciacqua utilizzo anche quello della via cal però questo quando vado più in velocità nelle pulizie preferisco questo il via cal lo uso quando faccio delle pulizie diciamo più approfondite poi c'erano queste semplici coppette di vetro da gelato da macedonia da gelato siccome non ne ho sinceramente di questo tipo di perché dovete sapere una cosa ragazze che io avevo per chi mi segue su instagram lo sa io sono stata sposata e avevo una lista di nozze e parte di questa lista di nozze era in cantina perché praticamente ho la casa piccola non avevo tutto lo spazio per poter mettere le cose e dovete sapere che mi sono venuti ladri non solo a me nel palazzo a me anche altre persone abbiamo avuto i ladri l'anno scorso due volte in cantina e mi hanno portato via tutto per cui non ho più niente mi erano già venuti in appartamento nel 2016 mi avevano portato via le cose che gioielli queste cose qua che portano via i ladri in genere addirittura smalti profumi quindi erano donne sicuramente e poi ho avuto anche i ladri in cantina quindi non ho più neanche niente di cose per la casa quindi ho preso queste queste e preferisco così di non avere non voglio più avere cose costose perché appunto ho fatto l'abbonamento con i ladri e sinceramente non voglio più avere niente di valore in casa e questi sono di questa linea che si chiama maxim sono questi appunto coppette da macedonia in vetro e sono costate 2 ore e 99 quindi molto poco ecco questa è la spesa che ho fatto alla saponeria dopodiché vi faccio vedere i due prodottini di makeup che mi si sono attaccati alle mani mi si è attaccato alle mani uno smalto di essi ultimamente sto cercando di curarmi un pochettino di più le mani vedete ho fatto lo smalto mi sono messa questo smalto io questo è uno smalto tra l'altro di una linea che si chiama melissa che si trova dai cinesi ragazze che è molto resistente devo dire e lo sto testando e devo dire che al momento mi ha fatto un'ottima impressione però magari ci riaggiorneremo me l'avevo consigliato una mia amica alessandra dicendo appunto che erano degli smalti molto doraturi e costano 1 euro e 99 però oggi mi trovavo alla saponeria e volevo mi ha colpito il colore di questo smalto alla saponeria hanno gli smalti o di royal beauty tra quelli sono per semi permanente oppure pupa non hanno per esempio gli opi gli opi sono i miei smalti preferiti credo però purtroppo hanno lo svantaggio che non si trovano tanto in giro di smalti buoni che io posso trovare nella grande distribuzione appunto saponeri attività sono questi di essi per cui mi sono voluta prendere questo sapete quanto amo i colori freddi rosini violini i ciclamini questo è una sorta di ciclamino color ciclamino un po spento quindi molto secondo me da mezza stagione e questa è la colorazione 820 questo stava in offerta 10 euro e 90 offerta per modo di dire perché la buoneria fino a un po di tempo fa metteva questi smalti di essi in offerta circa a 6 90 circa 7 8 euro adesso non mi ricordo esattamente comunque è aumentato tutto ok andiamo vi faccio vedere andiamo all'ultimo prodotto di makeup che è questo ombrette scusate questo rossetto liquido di l'oreal sono matt sono usciti da pochissimo mi ha detto la commessa appunto da una settimana e io ho preso ne ho preso uno eccolo qui in una colorazione ragazze sapete che appunto mi piacciono questo genere di colori l'ho preso nella colorazione ve lo dico subito 240 mi sembra che questa meraviglia cioè io l'ho swatchato sulle mani c'erano tutti tester un paio di colori quelli più nude addirittura erano esauriti ci sono c'è un bel rosso fragola c'è un rosso un po più sul mattone corallo un rosso un po più scuro bei colori devo dire mi sono piaciuti l'ho swatchato sulle mani mi è piaciuto per cui ho deciso di acquistarlo ve lo swatcho sapete che non amo molto i rossetti liquidi ma ci sono caduta questo costavano questo costava 12 euro e 90 vedete il pennellino è così mi piace comunque come applicatore a questo applicatore a goccia leggermente diciamo incurvato verso l'interno verso il dentro diciamo e ecco questo è il colore è questo diciamo anche questo questo rosa ciclamino sempre per rimanere in tema ma sono comunque i colori che utilizzo di più per cui è che trovo mi stiano meglio tra l'altro la saponeria c'era una commessa veramente molto carina e anche preparata trovo che non sempre sia così e mi ha detto insomma ci siamo messi lì a parlare dei rossetti liquidi ha detto che lei preferisce quelli di maybelline nella versione matta ma che comunque seccano un po le labbra questi invece sono comunque più idratanti poi abbiamo parlato un po di sottotoni della pelle io ho sempre pensato di avere un sottotono un po giallino invece in realtà poi ultimamente mi stanno tutti dicendo che in realtà il mio sottotono è un pochettino più neutro sul freddo anche guardando le vene che sono verdi e non bluastre comunque ragazze e niente quindi io ve lo volevo far vedere ragazze questo lo swatch del rossetto c'era anche un rosa più chiaro adesso questo io lo provo sapete che non amo tantissimi rossetti liquidi dopo un po mi danno fastidio sulle labbra se non dovesse darmi fastidio io magari me ne vado a comprare altre colorazioni ecco direi che è tutto per quanto riguarda la spesa di oggi i miei giri di oggi purtroppo come vi dicevo ultimamente non riesco a fare granché rispetto prima forse meglio anche per il mio portafoglio e nulla e spero di esservi stata utile in qualche modo con questo video perché comunque andare a fare la spesa comprare queste cose destreggiarsi nei prezzi che sono aumentati tantissimo lo dobbiamo fare tutti purtroppo quindi spero di esservi stata utile quantomeno come si dice sempre di avervi tenuto un pochettino di compagnia voi ne fate sempre tanta a me sentiamoci nei commenti se vi va io vi auguro una buona domenica e ci vediamo al prossimo video ciao a tutte e a tutti